Ci racconti un po' il tuo percorso fino a questo traguardo, possiamo dire? Sì, io sono entrato in seminario nel settembre del 2011, dopo aver frequentato il Selmi linguistico come scuola superiore e poi in mezzo dopo la maturità prima dell'ingresso in seminario un anno circa al Sermig, il Servizio Missionario Giovani di Torino che avevo conosciuto durante la scuola superiore attraverso la parrocchia, la parrocchia di Santa Teresa dove ho fatto un po' il percorso dei gruppi giovanili e quindi un anno là che mi ha servito per continuare il discernimento e maturare effettivamente la decisione di entrare in seminario. Poi il cammino quando si entra in seminario continua, non è certo concluso, sono almeno sei anni di discernimento dove molto importante è stata sicuramente la vita della comunità del seminario e il servizio nelle parrocchie in cui man mano sono stato mandato e dove ho potuto imparare, vedere, penso proprio alla bellezza della nostra chiesa modenese in sue tante sfaccettature, quindi dopo Santa Teresa, la parrocchia di origine, sono stato a San Felice sul Panaro e San Cesario sul Panaro. Cos'è la cosa che ti ha forse colpito di più anche nel servizio pastorale mentre vi avvicinate al giorno dell'ordinazione? Pensando sì, la cosa che mi ha colpito di più probabilmente è la diversità, la diversità che come si dice tante volte è una ricchezza ma lo è veramente, ho visto parrocchie che non sono comunità perfette, forse ho imparato questo, nessuna parrocchia è una comunità perfetta ma insieme si compone la nostra chiesa, una chiesa diocesana, la nostra chiesa di Modena che è bella per com'è, con tutte le sue caratteristiche e quindi certo ho visitato solo, ho conosciuto alcune, poche parrocchie ma queste lasciano ben sperare anche in un futuro dove sarò, saremo inviati e di poter continuare a scoprire ciò che il Signore opera nella nostra chiesa. Un'ultima domanda, qual è il sentimento, diciamo l'emozione che provi a pochi giorni dall'ordinazione e anche cosa vi ha detto Donerio in questi giorni? Allora il sentimento è sicuramente di una grande gratitudine verso il Signore prima di tutto perché nonostante tutto, nonostante gli alti e i bassi di ogni cammino, quindi penso anche del mio il Signore c'è sempre stato con la sua fedeltà, il suo sostegno, la forza che dà quando si cammina insieme a Lui e poi quindi la gratitudine verso tutte le persone che mi hanno accompagnato dalla famiglia alla parrocchia alla comunità del seminario e sicuramente anche verso il Vescovo Lui abbiamo avuto modo, penso da quando è arrivato a Modena, di incontrarlo più volte e già il Vescovo Antonio prima ci accompagnava da vicino e il Vescovo Aereo con la sua capacità di essere attento, proprio avere cura di ogni persona penso ce l'abbia dimostrato, me l'abbia dimostrato in modo molto forte non da ultimo con un bicchiere di nocino offerto pochi giorni fa a colazione che è stata una sorpresa, ma capita anche questo Ci racconti un po' qual è stato il tuo percorso per arrivare fino a qui? Sì, provengo dalla parrocchia di Santa Teresa, proveniamo in due dalla parrocchia di Santa Teresa e dopo il Barozzi, le scuole superiori, ho scelto di lavorare ho lavorato tre anni e mezzo nell'azienda Glem Gas a San Cesario è stata un'esperienza molto importante per il confronto della vita quotidiana con tanti adulti appunto con il mondo del lavoro, nelle sue difficoltà e anche nelle sue bellezze tante relazioni, sono ancora vive e con tanti ci sentiamo ancora quindi è stata un'esperienza molto importante ecco, dopo quattro anni e mezzo di discernimento grazie anche a Cammino, così a Santa Teresa sono andato a scegliere il seminario il Cammino è andato avanti è importante la vita di comunità, lo studio della teologia e lo scoprire appunto altre comunità sono stato a Montefiorino, col servizio anche nel vicariato della Val Dragone e poi a Maranello e adesso l'ultimo anno a San Giovanni Bosco in aiuto anche alla città dei ragazzi quindi questo mi ha portato fino a qui E in queste esperienze, al di fuori appunto della tua parrocchia d'origine cosa hai scoperto e cosa ti ha colpito di più? Sì, io credo questo, scoprire che il Signore riesce a agire sempre e ovunque c'è tanto potenziale, ho lavorato soprattutto con i giovani sono un po' a servizio dei ragazzi e c'è un grande potenziale nei giovani che deve essere tirato fuori credo che il Vangelo questo lo sappia fare benissimo e l'esperienza insomma bella è stata proprio questo vedere come il Signore raggiunge ovunque dalla montagna, alla pedemontana, alla città e questa è una grande consapevolezza anche per il futuro Da ultimo qual è l'emozione che provi insomma i sentimenti che hai nel cuore in questi giorni e poi se ci svegli un po' meglio questo episodio del nocino che abbiamo sentito prima con Donerio Allora, intanto, così vista dell'ordinazione mi piace citare una frase che mi ha sempre colpito e c'è scritto sull'altare di Monti Obizzo, della chiesa di Monti Obizzo riferito alla liturgia e la rubo per l'ordinazione c'è scritto accedi con fede, con timore e con delizia, con diletto e con fede, affidarsi al Signore insomma proprio in un grande abbandono al Signore anche all'aiuto di Maria, anche alla preghiera di tantissimi che in questi giorni appunto stanno pregando per noi e con timore, con tremore, certo la paura c'è comunque è qualcosa di più grande di noi non è qualcosa di cui siamo degni, di cui siamo pronti quindi un po' di timore e soprattutto tanta gioia tanto delizia, tanto diletto ecco, tanta gratitudine al Signore per quello che ha fatto e che fa nelle nostre vite e niente, appunto, una volta il Vescovo ci ha chiamato a colazione e quindi ci ha offerto un po' di pasta, un po' di latte, un po' di caffè e anche un po' di nocino quindi è stato un bel momento di comunione con lui anche se alla fine non l'abbiamo bevuto per mantenere un po' di rispetto davanti alla sua eccellenza e anche se alla fine non l'abbiamo bevuto